No, tra l'altro la domanda veniva spontanea, insomma i rapporti con le istituzioni locali quali sono? Non esistono, cioè non esistono e quando esistono devi correre l'ischio che in qualche modo ti trovi alla fine con il cerino in mano e non sappia come proseguire. Mi riferisco al gemellaggio e non voglio... Certo, non mi chiediamo a questa... E mi riferisco anche all'ultima edizione del Natale a Ischio siamo stati inseriti nel programma del comune di Ischio soltanto che mezz'ora prima, due mesi prima questo, abbiamo fatto le nostre cose abbiamo fatto le persone, cantanti addirittura della scala persone che cantavano la scala erano qui a Ischio per partecipare a quella sera un'ora prima mi arrivano a telefonare e dicono guarda che il tuo evento non si fa o comunque si fa in tempi ridotti perché è cambiato il programma c'è un dj che dovrà suonare sul palco Ah ecco, quindi era cambiata la scena? Avevano cambiato, avevano messo un dj durante il nostro spazio